Benvenuti in news per te. Recentemente è emersa una notizia scioccante riguardante Filippo Turetta. Il Corriere della Sera ha riportato un particolare macabro che ha colto tutti di sorpresa. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. La tragica morte di Giulia Cecchettin ha scosso l'intera comunità. Tutti sono stati fortemente colpiti dalla vicenda. È un periodo difficile sia per la famiglia di Giulia Cecchettin che per quella di Filippo Turetta. I genitori di quest'ultimo hanno rinunciato persino a visitarlo in carcere. Secondo le ultime notizie riportate dal Corriere della Sera, alcune persone quotidianamente si recano davanti alla vecchia abitazione di Filippo Turetta per scattare selfie. Una situazione che aggiunge dolore a una vicenda già tragica, costringendo i genitori di Filippo a assistere a questo spettacolo in aggiunta alla sofferenza già provata. E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.